Buonasera, buonasera da un Sondati, gine apertura ancora il caso di meningite registrato nell'ospedale di Sulmona, lieve miglioramento per l'84enne ricoverato nel reparto di rianimazione, la prognosi resta riservata, intanto l'ASL conferma nessun rischio di contagio per la popolazione, noi facciamo il punto nel servizio. È lievemente migliorato ma resta in prognosi riservata e in gravi condizioni il paziente di 84 anni di Sulmona ricoverato dal 28 dicembre scorso nel reparto di rianimazione dell'ospedale Peligno per aver contratto meningite e pneumococcica. Lo comunica tramite l'ufficio stampa dell'ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila, lo staff del reparto di terapia intensiva. Il lieve miglioramento delle condizioni dell'uomo rispetto a ieri riguarda l'aspetto neurologico, affermano dall'ASL, il paziente continua ad essere assistito nelle funzioni vitali e con le modalità previste dai protocolli. Si ribadisce che il tipo di meningite che ha colpito il paziente di Sulmona, concludono dall'ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila, non ha nulla a che fare con le altre forme della patologia causate da meningococco registrate in Toscana e in altre regioni, che sono invece di natura contagiosa e necessitano di profilassi nei confronti delle persone che vengono a contatto col malato. Dicembre da record per il punto nascita dell'ospedale di Sulmona, 28 parti si sono registrati in 31 giorni, si guarda dunque al futuro con maggiore ottimismo. Sentiamo i particolari. Comincia a coppire giusto il nuovo anno per il punto nascita dell'ospedale di Sulmona che può contare sul trend in crescita che è venuto fuori nell'ultimo mese del 2016. Un dicembre da record se si considera che si sono registrati ben 28 parti in 31 giorni, quasi uno al giorno, nel reparto di maternità finito nel vortice della riorganizzazione regionale e nazionale. Dei 28 parti 19 sono stati spontanei e solo 9 cesarei. Un altro risultato significativo che conferma come la tecnica del parto in analgesia sta prendendo piede. È stata praticata dal mese di maggio e a fine anno è arrivato anche il parto con epidurale. In totale nel 2016 si condano 208 nascite, una decina in più del 2015. Ma non è solo una questione di numeri. Negli ultimi mesi in effetti le pazienti hanno riacquistato fiducia nel reparto dal momento che per partorire a Sulmona le donne si sono spostate dalla costa abruzzese e dal capoluogo di regione. All'inizio dell'anno è arrivato il primo fiocco rosa del 2017 con la nascita di Anna Lisa, una bella bambina di 2955 grammi. Si guarda al futuro con maggiore ottimismo ma l'attenzione resta altissima. A riaccendere i riflettori sulle sorti del punto nascita Pelinio è stato il coordinatore di sovranità Alberto Riggian Domenico che ha chiesto alla regione di certificare la presenza di ostetrici e ginecologia a Sulmona dal momento che promesse e parole non possono bastare. Nel capoluogo Pelinio si continua a nascere ma la politica si sa tocca sempre l'ultima parola. E ora la pagina dedicata al lavoro con il bando garanzia over in un mese 500 assunzioni a tirare le somme e l'assessore regionale al lavoro Andrea Gerosolimo. Sentiamo i particolari. Circa 500 richieste di assunzioni a tempo indeterminato giunte da imprese, studi professionali e associazioni. Andrea Gerosolimo, assessore alle politiche del lavoro, traccia un primo bilancio di garanzia over a poco più di un mese dal suo lancio sulla piattaforma Borsa Lavoro Abruzzo. Ci troviamo di fronte a un risultato eccezionale, sordisce Gerosolimo, con 500 aziende pronte ad assumere disoccupati e a fare un reale investimento sulle risorse umane in grado di far crescere la propria azienda. Dico questo soprattutto per mettere in evidenza la risposta che in questo mese abbiamo ricevuto dalle imprese abruzzesi che hanno capito l'importanza dello strumento messo a disposizione nell'ambito della programmazione FSE 2014-2020. Delle circa 500 richieste pervenute, 340 sono di assunzioni dirette, 141 di assunzioni precedute da tirocinio con obbligo di contratto al termine dei sei mesi. L'altro dato rilevante riguarda le assunzioni di genere, 228 è il numero di assunzioni per maschi, 253 per le donne, per entrambi, oltre la metà dei contratti a tempo determinato, tocca la fascia 30-49 anni. Su questo aspetto, aggiunge l'assessore alle politiche del lavoro, si concentravano le nostre attenzioni, nel senso che dal territorio abbiamo avuto una stringente richiesta a scrivere e pensare politiche attive per i disoccupati di lunga durata, in particolare over 40 e 50. Garanzia over è stato il bando di prova decisivo, con dati che certificano l'affanno che l'Abruzzo registra per i disoccupati di lunga durata. La conferma arriva anche dal dato sugli over 50, 116 assunzioni, pare al 24,1% del totale delle assunzioni. In sostanza, dice Gerosolimo, un lavoratore su quattro che sarà assunto avrà più di 50 anni. Già questo dato è sufficiente per orientare una parte consistente delle politiche del lavoro verso i disoccupati over 30, al pari della scelta dell'Aggiunta regionale, che vuole creare percorsi preferenziali per quelle aziende che vogliono investire sulle risorse umane con contratti a tempo indeterminato. Ora torniamo sul costo dei pedaggi autostradali. La CNA di Sulmona va su tutte le furie e un ulteriore aggravio inaccettabile, rileva il direttore Franco Ruggeri. Sentiamo meglio nel servizio. Novaggio e le associazioni di lato trasportatori e di categoria all'aumento del pedaggio autostradale scattato come di consueto dalla mezzanotte del 1 gennaio. Anche la CNA di Sulmona, con il suo direttore di sede Franco Ruggeri, dichiara guerra al ministero, schierandosi al fianco degli automobilisti. L'aumento quest'anno è pari all'1,62% sull'autostrade abruzzesi, mentre il rincaro a livello nazionale si ferma allo 0,77%. E' indubbiamente un ulteriore aggravio della situazione, rileva Ruggeri, basti pensare, a quelle persone che sono strutturalmente legate al percorso automobilistico per ragioni di lavoro. Se oltre all'aumento dei pedaggi si considera anche l'incremento del costo della benzina, che negli ultimi tempi è salito fino al 20%, l'aggravio è talmente notevole che costringe non pochi viaggiatori a preferire altri territori come tenore di vita. Ruggeri conclude facendo notare che l'aumento del costo dei pedaggi non corrisponde al miglioramento dei servizi sull'autostrada, una considerazione già fatta dai sulmonesi nel corso della raccolta di opinioni di Onda Tg. In queste ore associazioni e cittadini sono sul piede di guerra, mentre la politica, eccetto qualche caso, resta in silenzio. Sala colloqui e cortile per il passeggio dei detenuti procedono a rilento. I lavori nel carcere sulmonese di Via Lamaccio, la denuncia dalla Wilpa Polizia Penitenziaria. Sentiamo tutto nel servizio. L'inaugurazione del cortile di passeggio per detenuti, che era in programma per fine anno 2016, rinviata a data da destinarsi, mentre i lavori per la nuova sala colloqui stentano ad essere completati, a scattare la fotografia sulle nuove opere da realizzare nel carcere sulmonese di Via Lamaccio e Mauro Nardella della Wilpa Polizia Penitenziaria. L'inaugurazione del cortile passeggio, a causa delle continue ripetute sospensioni dei lavori, le motivazioni risultano a noi sconosciute, è stata rinviata a data da destinarsi dal momento che la costruzione di questo impianto è propedeutico a quella del nuovo padiglione, il cui avvio dei lavori si è attente da un anno e mezzo, fa notare il sindacalista. Sulla sala colloqui Nardella ribadisce che i lavori non sono ancora completati. Questi ultimi rendono complicata la vita degli addetti a tale servizio, poiché la realizzazione della nuova struttura li ha di fatto privati di luce naturale in conseguenza del muro realizzato in corrispondenza delle finestre completamente murate. Mi auguro di non dover parlare di un'eterna incompiuta, conclude Nardella. Il nuovo padiglione, stando alle ultime rassicurazioni, dovrebbe essere edificato entro il 2018. L'ampliamento della struttura porterà a un incremento dei detenuti da 460 a 700 circa. Ed ora cambiamo argomento. Il generale, inverno, bussa alle porte. La Befana quest'anno porterà la neve nella regione Abruzzo. Sentiamo. Il Centro Trasfusionale d'Abruzzo della Protezione Civile, in considerazione delle previsioni meteorologiche e con la collaborazione del Centro Funzionale Centrale Settore Meteo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, prevede dalla giornata del 5 gennaio 2017 fino alla mattinata di sabato 7 gennaio, nevicate su gran parte dell'Abruzzo. Ha ritenuto pertanto opportuno diffondere una nota informativa a tutti i sindaci e agli enti coinvolti nel sistema di allertamento della regione Abruzzo. Il fenomeno nevoso interesserà inizialmente i rilievi appenninici fino a quote collinari e dalla notte tra il 5 e il 6 gennaio anche le località del litorale, dove le temperature saranno prossime o di poco inferiori allo zero per tutta la giornata di venerdì. Il fenomeno sarà dovuto a una veloce discesa di aria artica attualmente sulla Norvegia, che interesserà il bacino adriatico e le regioni balcaniche, associando alle nevicate anche venti forti di bora che potranno causare delle mareggiate lungo le nostre coste. Già stamane il termometro segnava meno tre e neve a Campo Imperatore, nevischio gelato all'Aquila, mentre si sono imbiancate tutte le cime interne fino a Scanno. Anche se la situazione meteo è ancora in evoluzione, finalmente la neve, tanto attesa dalle stazioni sciistiche abruzzese e degli appassionati di sport invernali, è in arrivo anche in Abruzzo, ha commentato il sottosegretario con delega alla protezione civile Mario Mazzocca. Si è affrontato con gli opportuni strumenti e con le dovute precauzioni messe in campo dal nostro sistema di protezione civile, il fenomeno meteo non comporterà alcun disagio particolare e accrescerà il livello di godibilità di questa regione. Per previsioni meteo e aggiornamenti consultare il sito web allarmeteo.regione.abruzzo.it Approvato il bilancio di previsione 2017 della SACA, investimenti per oltre 12 milioni di euro. Il punto di Domenico Berlingeri. Approvato all'unanimità il bilancio di previsione 2017 della SACA, la società che gestisce il servizio idrico del centro Abruzzo, chiuso con un utile d'esercizio che incrementa il trend degli anni precedenti. Soddisfazione viene espressa dall'amministratore unico Luigi Di Loreto, in quanto questa manovra dimostra come la SACA si sta dirigendo verso la normalizzazione dei flussi di cassa ed il miglioramento delle performance gestionali. Il bilancio, spiega Di Loreto, indirizza le sue scelte strategiche ed operative non solo verso gli indispensabili obiettivi di natura economico-finanziaria, ma anche verso obiettivi di responsabilità sociale e di tutela dell'ambiente. Garantire un accesso all'acqua sicuro ed equa, afferma, è la finalità che caratterizzerà la mission aziendale, legata ad una gestione sostenibile che vada a tutelare le comunità locali di riferimento e le attività economiche ad esse collegate. Nello specifico, il bilancio 2017 contiene investimenti per oltre 12 milioni di euro relativi all'adeguamento degli impianti di depurazione, al miglioramento delle reti fognarie di distribuzione idrica e ad interventi volti al risparmio energetico. Da questi investimenti, prosegue, ci si attende un notevole miglioramento della qualità delle acque restituite all'ambiente ed un minore impatto sulla risorsa idrica, nonché una notevole riduzione dei costi di gestione. Nonostante l'adeguamento del contratto collettivo nazionale di lavoro, Luigi Di Loreto sottolinea che il bilancio non aumenta le spese per il personale, prevede una sostanziale diminuzione dei costi per materie prime e servizi, estanzia risorse per azioni di miglioramento aziendali, quali la realizzazione delle opere finanziate con i fassi del masterplan, il potenziamento delle analisi sia delle acque potabili che delle acque reflue, gli investimenti di distrettualizzazione delle reti idriche nell'Alto Sangro, l'ottimizzazione dei recupero crediti e la realizzazione delle casette per la distribuzione dell'acqua nei vari comuni. La gestione, aggiunge, sarà positivamente influenzata anche dai finanziamenti previsti dalla legge cosiddetta Sblocca Italia, dal pacchetto di misure per la difesa della legalità e dell'equità che sarà presentato nell'anno in corso, dallo scioglimento della società GIS a SRL, dalla revisione della carta del servizio e del regolamento d'utenza, nonché dalla riorganizzazione del contact center che migliorerà la qualità dei servizi resi al cittadino. A fronte di tutto ciò, il bilancio rileva l'amministratore unico e risentirà di alcune azioni già cantierizzate, come la riorganizzazione dell'ufficio gare, la vendita di alcuni asset aziendali, la revisione dei ruoli, il riallineamento del piano degli interventi ed un piano di censimenti finalizzato alla revisione delle banche dati aziendali. Di Loreto si dichiara molto fiducioso sul lavoro da portare avanti. Sarà un anno impegnativo, conclude, che coinvolgerà ciascun dipendente della meravigliosa squadra della SAC S.P.A., un lavoro che avrà come punti di riferimento soprattutto la centralità dell'utente, l'efficienza del servizio, la tutela dell'ambiente e la salvaguardia delle fasce più deboli. E ora la pagina dedicata alla cultura, associazioni sul Monesi in rete per rilanciare il teatro comunale Maria Caniglia. Oggi il summit nel piccolo teatro di Via Quadrario. Vediamo tutto nel servizio. Attivare un sistema per censire l'offerta delle associazioni culturali, magari con un sito internet ad hoc, evitare l'accavalamento degli eventi, puntare sul teatro come soggetto percettore dei fondi FOS, creare una rete per rilanciare la stagione teatrale e la cultura. Queste le proposte venute fuori dal summit fra il sindaco di Sumona e Maria Casini, Benedetto Zenone di Abruzzo Circuito Spettacolo e le associazioni culturali della città. Due ore di dibattito per dar vita a una nuova unione di intenti che vede al centro della programmazione culturale il rilancio del teatro comunale Maria Caniglia di Sulmona in vista dell'avvio della stagione di prosa che sarà inaugurata il giorno dell'Epifania. L'amministrazione comunale non deve farsi carico della produzione degli spettacoli e di altre manifestazioni di cultura, esordito il sindaco, ma deve garantire attenzione e ascolto alle diverse realtà culturali e lavorare per la messa a sistema delle associazioni e delle iniziative per puntare dritto al rilancio della cultura nella città. L'ambizione è quella di far sì che da questo territorio riparta proprio una vera e propria produzione teatrale. La riunione di oggi era proprio quella di fare in maniera che le singole associazioni si riescano a mettere in rete, ma soprattutto si cominci insieme a fare un ragionamento per innalzare il livello qualitativo delle produzioni e favorire la crescita di vere e proprie compagnie professionali con l'aiuto di ACS che ha proprio nel suo DNA proprio quello di poi promuovere produzioni anche locali abruzzesi insieme riuscire quindi a promuovere il buon teatro ma anche la nostra migliore produzione. All'incontro a Piccolo Teatro di Via Quadraria hanno partecipato fra gli altri il presidente del Consiglio Comunale Katia Di Marzio e il presidente della Commissione Cultura Roberta Salvati e la consigliera comunale Deborah D'Amico. Chiaramente è stato motivo questa nostra riunione di oggi anche per capire quali sono le esigenze delle associazioni. Oggi però si punta comunque ad un livello sempre più alto. Le nostre associazioni culturali fanno un grandissimo lavoro che assumono e quindi a loro va assolutamente un plauso e vanno comunque sostenti. Si troverà il metodo attraverso la creazione di una rete per far emergere quelle che sono le peculiarità e tutto ciò che può essere anche una programmazione che noi doverosamente dobbiamo attivare sul nostro territorio. Tutto questo creerà un processo virtuoso che ci permetterà di attirare finanziamenti e anche novità insomma sul nostro territorio. Tempo di saldi nella regione Abruzzo a partire dal prossimo 5 gennaio chissà se quest'anno i sulbonessi beneficeranno delle offerte o faranno acquisti. Stare a vedere. Per partire i saldi anche quest'anno qual è il vostro auspicio? A dire la verità quest'anno nel periodo delle feste che sono ancora da concludersi non si è fatto nulla ragione per cui io penso che molti esercenti anticiperanno un pochino i saldi per poter realizzare qualche cosa. Certo io ho fatto sempre acquisti ai saldi però certo se mi piace una cosa non è che aspetto i saldi l'istenziale è che i soldi vengono messi sul nostro territorio non fuori questo è. Pochi ma buoni. Come si orienterà? Principalmente per i ragazzi che crescono a vista tuo. Gli acquisti sì per forza i saldi è la prima cosa. Perché comunque la gente ormai ha imparato una cosa che compra quando ha bisogno e soprattutto se lo tratti bene durante l'anno diciamo che poi torna. i saldi li aspettano in tanti però quello che manca è l'argent l'argent fa la guerra ora saldi e non saldi bisogna recuperare le attività lavorative per consentire anche i nostri ai nostri commercianti di avviare un minimo di ripresa e che quest'anno ci sia propizio sotto anche sotto questo punto di vista non è nato ti ho sentito sotto una buona stella ma speriamo che nostro signore Gesù Cristo ci aiuta riparte la stagione invernale dei saldi in Abruzzo si comincia giovedì 5 gennaio e i commercianti sul Monessi si preparano ad affrontare un'altra sfida dopo un Natale che ha lasciato a desiderare per quanto riguarda le presenze turistiche si spera in un'inversione di tendenza in una prima raccolta di opinioni condotta da Onda Tg gli intervistati dichiarano di approfittare delle offerte dei saldi l'importante tengono a precisare e investire sul territorio in un momento delicato per l'economia cittadina e comprensoriale Tocco ora agli esercenti cogliere la palla in balzo i dati dell'osservatorio come esercenti indicano che ogni famiglia abruzzese spenderà in media 330 euro il 58% si dichiarava infatti ancora molto o abbastanza interessato ai saldi caccia all'offerta nel 62% dei casi soprattutto nel settore dell'abbigliamento e ora ci spostiamo a Rivisondoli perché rivive il fascino del presepe vivente giunto quest'anno all'edizione numero 66 tutto pronto per l'edizione numero 66 del presepe vivente di Rivisondoli la più antica rinomata rappresentazione della natività in Italia e proprio il presepe vivente di Rivisondoli aspirato a altre rappresentazioni del genere sarà Roberta Sideri sedicenne di Lanciano impersonare quest'anno la Madonna il bambino Gesù sarà invece Franco Bucci nato a Roccaraso quest'anno la crisi demografica che affligge soprattutto i paesi dell'area interna di Abruzzo è impedito che il bambino Gesù fosse un neonato di Rivisondoli interrompendo una lunga tradizione San Giuseppe sarà impersonato da Manuel Celio 19 anni di Rivisondoli nipote del pastore più anziano del presepe vivente Berardino ottantenne tra i personaggi del presepe vivente già da 51 anni la Madonna dell'annunciazione sarà Beatrice 7 15 anni di Pietranzieri frazione di Roccaraso in tutto saranno 400 i figuranti impegnati nella rappresentazione il presepe vivente si svolgerà giovedì 5 gennaio vigilia dell'epifania alle ore 18 nella piana di Pielucente l'atteso evento si terrà in qualsiasi condizione climatica atmosferica come avviene da sempre con i di fuoco e di luce riscalderanno il pubblico che come accade ogni anno sarà accolto nella collinetta prospicente la piana di Pielucente dove è collocata la capanna e dove sarà rappresentata la natività nei pressi dello stesso luogo della rappresentazione è disponibile un'ampia area parcheggio anche per i pullman il comune di Rivisondoli orgoglioso di questa lunga rinomata tradizione punta molto su presepe vivente non solo come evento culturale e artistico ma anche come incentivo al turismo in questo territorio spiega il sindaco Roberto Ciampaglia l'occasione del presepe vivente è anche importante per accrescere gemellaggi con altri paesi e città dove esistono le più importanti tradizioni legate alla rievocazione della natività quindi il sindaco ringrazia Massimo Di Francesco e Geppi Lepore organizzatori del presepe vivente e tutti coloro che in prima persona o dietro le quinte partecipano alla rappresentazione da Rivisondoli a Pettorano sul Gizio per parlare dell'edizione numero 55 della Sagra della Polenta in programma venerdì 6 gennaio appuntamento per le ore 12 in piazza Umberto I dove sono state allestite una tenso struttura e diversi gazebo per accogliere i tanti ospiti sarà possibile gustare insieme alla Polenta piatti e dolci tipici per l'occasione gli organizzatori della Prologo promuoveranno l'iniziativa basta un euro per salvare una vita volta a raccogliere piccole offerte ma importanti per l'acquisto di un defibrillatore la festa continuerà nella giornata di sabato 7 con l'accoglienza speciale riservata ai viaggiatori del treno storico della Transiberiana d'Italia che visiteranno l'antico borgo di Pettorano sul Gizio anche per assaggiare la buona e genuina gastronomia tipica locale tutto pronto al Teatro Comunale Maria Caniglia di Sulmona per il concerto grosso che si darà fra poco alle ore 21 ricordiamo che i fondi il costo dei biletti sarà devoluto alle popolazioni colpite dai recenti eventi sismici del centro Italia un evento organizzato da Dimensione Musica lo sport con il calcio Coppa Italia di promozione domani si chiude il secondo turno Domenico Verlingeri Nel nuovo anno la stagione calcistica in promozione riprenderà con l'ultima giornata del secondo turno della Coppa Italia le gare in programma domani saranno utili per determinare le quattro semifinaliste questa chance si presenta la Sulbonese Ofena che ha bisogno di un pari al luco di Marsi per passare il turno i ragazzi di Scandurra sono attualmente primi in classifica nel triangolare B per aver vinto lo scorso 9 novembre contro il San Gregorio grazie ad una rete di Luca del Conte le altre due squadre sono entrambi ad un punto il luco ed il già eliminato San Gregorio che nel primo confronto non sono andati oltre l'1-1 nella sfida di domani i biancorossi partiranno con il vantaggio di aver ottenuto una vittoria al cospetto di Marsi Cani il luco del tecnico Corrado Giannini per qualificarsi dovrà per forza vincere per arrivare a 4 punti perché il pareggio favorirebbe soltanto la Sulmonese Ofena basterà dunque non perdere per onorare la Coppa Italia che nel caso di un risultato positivo contro il luco vedrebbe Peligni accedere alla semifinale per poter sperare almeno in questo traguardo visto che in campionato l'obiettivo playoff appare complicato per quanto riguarda le altre gare in programma domani nel triangolare A il chieditore Alex ospita la Val di Sangro con l'obbligo di vincere perché il pareggio per la differenza reti sarebbe utile solo alla squadra di Dicencio nel triangolare C sfida equilibrata tra Spoltore e Mutignano che vedrà passare il turno la vincente mentre con il pareggio si avranno soluzioni diverse in base al numero dei gol nel triangolare D sarà una vera finale tra le prime due della classe del girone A di promozione Real Giulianova Torrese nel torneo nazionale città di Pescara domani l'Olimpia Cedas si gioca l'accesso agli ottavi l'Olimpia Cedas di Sulmona impegnata in questi giorni al torneo nazionale città di Pescara di calcio giovanile ragazzi della categoria 2003-2004 allenati da Spine e Siani questa mattina hanno vinto per 2-0 contro il Carovigno con reti di Federici e Fasciani mentre nel pomeriggio sono usciti sconfitti immeritatamente contro la Lazio per 1-0 con gol subito a 5 minuti dalla fine nella gara di domani mattina contro l'Avellino basterà un pareggio per accedere agli ottavi di finale in programma nel pomeriggio probabilmente contro la Juventus ci siamo anche questa sera vediamo qual è la buona notizia del giorno il Borgo San Panfilo raccoglie beni di prima necessità per le case famiglia del territorio si è ripetuta come ogni anno nel corso delle festività natalizie l'iniziativa solidale che vede i protagonisti cini impegnati nelle raccolte alimentari presso i supermercati della città di Sulmona ieri i volontari del Borgo hanno provveduto alla consegna dei beni alla casa famiglia Giovanni XXIII a Pacentro e alla casa famiglia Padre Minzoni a Raiano due furgoni pieni di pasta latte alimenti e prodotti a lunga conservazione siamo molto soddisfatti della risposta della gente che ha sostenuto la nostra iniziativa con grande solidarietà fa notare il vice capitano del Borgo San Panfilo Filippo Ficorilli è un modo per portare un sorriso a bambini e ragazzi che hanno bisogno di affetto e vicinanza e noi lo facciamo ogni anno con grande impegno e volontà aggiunge il giovane complimenti ai cigni del Borgo San Panfilo un'altra buona notizia per una società dove apprendere sopravvento nella maggior parte dei casi non è la solidarietà ma l'indifferenza ebbene era questa l'ultima notizia la prossima edizione come sempre domani alle 13.30 grazie per essere rimasti con noi a tutti voi lascio la buona serata arrivederci i cittadini possono decidere con calma se vaccinarsi contro la meningite ma secondo gli esperti dell'istituto superiore della sanità non si tratta di un escalation e non c'è una situazione di allarme a seguito dei casi registrati in Toscana Roma Genoa e Assulmona lo affermano l'assessore alla sanità al comune di Pescara Antonella Allegrino e la consigliera delegata ai rapporti con l'ospedale Tiziana Di Giampietro in merito alle numerose richieste pervenute al centro vaccinazioni dell'ASL che avrebbero causato un sovraffollamento e conseguenti disagi all'utenza non bisogna farsi prendere dalla psicosi perché come ribadisce l'istituto superiore della sanità è un grave errore dire che sia in presenza di un'epidemia aggiungono d'altronde l'ASL di Pescara ha già ricepito le richieste della cittadinanza predisponendo ulteriori sedute di vaccinazioni Un cittadino cinese di 47 anni è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di ortopedia dell'ospedale di Pescara per le lesioni di portate dopo essere stato investito da un'automobile a città Sant'Angelo l'incidente è avvenuto ieri sera al confine con Silvi il 47enne era uscito di casa per andare a gettare i rifiuti quando mentre attraversava la strada è stato travolto da un'auto condotta da un uomo di 68 anni secondo la prima ricostruzione il cinese non si trovava sulle strisce pedonali subito soccorso è stato trasportato in ospedale ha riportato fratture multiple dei rilievi si è occupata la polizia stradale di Pescara in casa nascosti in un imballo per televisore poggiato dietro alla porta della camera da letto avevano messo otto panetti di marijuana per un totale di otto chili e mezzo di droga oltre a due pistole finte e così per due albanesi ed un aquilano domiciliati a Giulianova e scattato l'arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente a mettergli le manette i carabinieri del nucleo investigativo della compagnia di Teramo che da un paio di giorni avevano notato la presenza di due albanesi in compagnia dell'italiano che giravano per Giulianova uno dei due albanesi tempo fa era stato già arrestato dai militari perché trovato in possesso di eroine in provincia di Ascoli Piceno e così i militari hanno deciso di procedere ad un servizio di osservazione nel corso del quale ieri sera hanno notato i tre fermarsi in una traversa della nazionale a Giulianova di ascoli di ascoli di ascoli di ascoli Grazie a tutti. Grazie a tutti.